Dalla Ghi, Drogia, io lo asisto in l'Ur. Fin da piccolo ho sempre avuto la passione della cucina e anno dopo anno questa passione è diventata una professione. Se amate la cucina e volete stupire i vostri amici, vi posso dare qualche consiglio. Il primo consiglio che posso dirvi è non mettete mai freno alle vostre fantasie culinarie perché i contrasti che a volte potrebbero sembrare assurdi. Il secondo consiglio che posso dirvi è non abbiate mai paura di sbagliare nel senso che un bravo chef nasce sui suoi errori. Il terzo ed ultimo consiglio che mi sento di darvi è, siate curiosi, cosa intendo per curiosità, esplorate le varie culture culinarie che il mondo ci può. E ricordatevi l'ultima cosa, il 60% dei vostri piatti si mangia a quegli occhi. Quindi prima di mangiare, prima di mangiarlo, prima di assaggiarlo, il piatto viene mangiato con la cucina. Un bel piatto presentato bene e ovviamente con la sostanza di un cibo all'interno. Buona fortuna a tutti!